Ciao, nostri cari follower, prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di supportarci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale con l'attivazione della campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere tutto ciò che è nuovo, se gli aggiornamenti sono molto forti per i modelli digitali globali e indicano grandi quantità di pioggia attese in Italia nei prossimi giorni oscilla tra 70 e 130 mm. Con possibilità di ritorno di qualche rovescio di neve all'estremo nord e nelle zone di confine con Svizzera, Francia e Austria, e ciò è dovuto al passaggio di una serie di forti perturbazioni aeree che interesseranno l'Italia nelle prossime ore e giorni, precisamente dalla fine di questo mese, maggio, fino all'inizio del prossimo mese, giugno 2023, e quindi preparatevi al ritorno del maltempo e dei forti temporali sull'Italia, che si caricano di forti piogge e grandine di piccole e grandi dimensioni e del pericolo di torrenti e alluvioni che si formano in più zone all'improvviso, e stiamo seguendo tutto ciò che è nuovo aggiornamenti e dettagli più accurati, rimani sintonizzato per loro più tardi e nelle prossime ore. Finalmente sei in buona salute!